Novità importanti arrivano sul futuro della FIMER. Il Tribunale di Arezzo ha infatti concesso il concordato in continuità diretta, dando così l'ok al piano che era stato presentato dall'azienda che ha uno stabilimento importante a terra nuova a Bracciolini. Una notizia tanta attesa da centinaia di lavoratori. La prima udienza per i creditori è stata fissata a marzo 2023. Il piano di FIMER presentato lo scorso 28 giugno prevederebbe di saldare i debiti attraverso gli introiti provenienti da importanti commesse di lavoro, mentre non si prevedono nuovi soci finanziatori né modifiche a livello occupazionale. Ora via il piano di rilancio è il primo commento dell'azienda che prosegue. Elemento essenziale per il ritorno a pieno regime delle attività produttive previste dal piano industriale è il supporto di una nuova finanza per 45 milioni di euro autorizzata dal Tribunale che verranno erogati dalla società General Finances. Tale supporto è finalizzato a finanziare l'acquisto delle materie prime e componenti indispensabili per avviare il recupero dell'attività produttiva che a fronte di un pacchetto di ordini molto elevato permetterà di finanziare l'avvio della produzione delle nuove piattaforme caratterizzate da un alto grado di avanguardia tecnica, affidabilità e competitività nel campo dell'energia solare e della mobilità elettrica.